Dopo la sosta natalizia tornerà domani il campionato di Serie D. Il programma dell'ultima giornata sarà però privo del derby molisano-campo basso-termoli. Le forti nevicate degli ultimi giorni hanno reso impraticabili il campo di Selvapiana e così la partita è stata rinviata a mercoledì 14 gennaio. In casa abruzzese i giorni di festa non hanno di certo rasserenato il clima a Giulianova e Chieti dove il calcio giocato si intreccia con le vicende societarie. Così a Giulianova in attesa delle mosse dell'amministratore Ferdinando Perletta che si era impegnato a firmare le sue dimissioni entro dicembre e a saldare le vertenze di ex tesserati. Proprio ieri i giocatori capeggiati dal senatore Maurizio Nassi e dal capitano Danilo Testoni hanno confermato che domani saranno in campo a Macerata contro la capolista maceratese. Ma se la situazione non sarà risolta entro la prossima settimana i calciatori potrebbero non scendere più in campo. Senza il pagamento delle vertenze anche l'attuale proprietà targata a Esposito si disimpegnerebbe lasciando giocatori senza stipendi. Con quale spirito domani il Giulianova giocherà nel Via Recina è davvero difficile da decifrare. A Chieti le ultime due settimane sono state scosse dalle dimissioni del presidente Walter Bellia. Nonostante il passo indietro i tifosi sono intenzionati a proseguire la loro protesta disertando ancora la Volpi per restare all'esterno dell'Angelini. A ciò si aggiunga la difficoltà nel reperire i campi per allenarsi con i giocatori costretti a emigrare a San Buceto data l'indisponibilità di Casani Incontrada e del Celdit. In questo clima non è facile preparare la gara di domani contro un'Olimpia agnonese assetata di punti salvezza. Ronci avrà a disposizione Esposito ma non ancora a Vano. Difficile il ritorno di Rapino fuori causa degli squalificati Prinari e Di Pietro. Clima decisamente più sereno in casa a San Nicolò. La squadra di Epifani uscita rinforzata dopo il mercato viene da due vittorie consecutive e ospiterà al Bonolis la Civitanovesse seconda in classifica. È una delle partite più importanti dell'ultima d'andata. Marchigiani senza il forte attaccante Degano ma che hanno appena tesserato il centrocampista exteramo Luca Pigini. Un'impresa lancerebbe il San Nicolò alla rincorsa del quinto posto. Scontri salvezza per Celano e Amiternina. I marsicani dopo la vittoria sul Matelica sfideranno la Cenerentola a Vispesaro che senza l'attaccante Evacuo e il portiere Teodorani cercherà il sorpasso proprio a danno del Celano. Sulla panchina non ci sarà lo squalificato tecnico Luiso. Amiternina in trasferta sul campo della Fermana con un punto nelle ultime tre gare. Gli scoppitani hanno bisogno di tornare a muovere sensibilmente la classifica.